Oggi è stata una giornata ricchissima di emozioni, uno tsunami di amore intorno alla notizia del ritrovamento del tipo giusto per Gabri. Il donatore compatibile, quell'uno su centomila che abbiamo cominciato a cercare da aprile, affiancandoci alle ADMO di varie regioni. Lo scrive con il cuore colmo di emozione Cristiano, il papà di Gabriele, il piccolo bimbo di due anni di cui vi abbiamo parlato a giugno. Il bimbo tenero ma anche molto fragile perché è unico in Italia ad essere affetto da una rarissima forma di anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B. In questi mesi tantissime sono state le persone che hanno affiancato Cristiano e la sua famiglia nella disperata ricerca di un donatore, chi con un articolo giornalistico, chi con un servizio televisivo, chi con il passaparola, una rete di solidarietà per far conoscere la realtà che tanti in silenzio vivono ogni giorno nella disperata ricerca di un donatore compatibile. La città di Agropoli e Castellabate, grazie ai due primi cittadini Coppola e Spinelli, accolsero la richiesta dell'Admo e vi fu un grande risultato in piazza Vittorio Veneto e grazie alla grande maratona mediatica vi fu una grande affluenza, però neanche in quell'occasione non si riuscì a trovare un gemello genetico per Gabri. In seguito a luglio un barlume di speranza per Cristiano e sua moglie sembrava essere arrivato. La terapia a cui Gabriele era sottoposto cominciava a funzionare, da qui la probabilità che il trapianto non sarebbe stato più necessario, ma nel mese di agosto le condizioni di salute del piccolo Gabri sono peggiorate e anche la probabilità di non essere più sottoposto a trapianto è svanita. Pochi giorni fa però una notizia bellissima a scriverlo sulla pagina ufficiale del piccolo Gabri il papà Cristiano. Il donatore compatibile è stato trovato, non sappiamo chi sia, non sappiamo da dove venga, ma c'è e non si è tirato indietro. Ciao a tutti, siamo veramente felici di poter condividere con voi questo momento. Abbiamo trovato il gemello genetico di Gabriele, ossia quel donatore compatibile che consentirà a Gabriele di potergli dare una seconda possibilità. Una seconda possibilità con un percorso molto duro, infatti siamo anche preoccupati, ma è l'unico percorso che possiamo fare. Ci avete dato tanta energia, ce la state continuando a dare con il vostro supporto e ci servirà tutta quanta. Adesso però vi chiedo un ultimo favore. Gabriele non è da solo, ha altre 1800 persone in Italia soltanto che sono in attesa di un trapianto di midollo osseo, quindi dobbiamo ripartire da qui, da questo esempio positivo per continuare a diffondere e a divulgare correttamente un messaggio di sensibilizzazione verso il dono. Grazie a tutti veramente per il sostegno che continuate a darci e spero di darvi molto presto notizie più che positive e che possiamo veramente dire che Gabriele sia guarito. Forza Gabri, anche questa volta ne uscirai vincitore e potrai finalmente essere libero. Noi dal Cilento facciamo il tifo per te e sappiamo che sei forte. Noi dal Cilento facciamo il tifo per te.